E salve a tutti ragazzi, qui è come sempre il vostro Gabriel Oster e benvenuti in questa nuova recensione. In questo gioco di Spyro 3, visto che siamo in questo livello flotta perduta, noi dobbiamo usare il potenziamento dell'invincibilità per nuotare nell'acido. Così possiamo andare a trovare un uovo di drago. Guardare tutti insieme sto video. Scusate se dura poco. Abbiamo bello già finito, abbiamo bello già trovato l'uovo attraversando l'acido con l'invincibilità. Il draghetto si è amaciato. Se il video vi è piaciuto potete condividerlo. Iscrivetevi al canale Gabriel Oster Games. Fateci sapere cosa ne pensate nel video nei commenti qui sotto. E non dimenticate che Gabriel Oster vuole tanti iscritti. Iscrivetevi e commentate. E mettete un mi piace. Grazie.